Si svolta a Siderno una giornata dedicata alla storia dei trattori di ieri e di oggi e alla mostra a scambio di attrezzi agricoli. Il raduno è stato nel piazzale dell'azienda Torniomec a Siderno in via Carrera, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Dell'iniziativa è stata promotrice l'associazione Laratro, il gruppo dei trattoristi della Locride. Nel piazzale erano presenti i gazebo dei rivenditori locali, dove si è potuto intrattenere il pubblico partecipante. In un momento in cui gli agricoltori protestano in tutta Europa per le normative assolutamente svantaggiose, nella Locride si è voluto mostrare la grande passione nei confronti dei trattori, strumento indispensabile oggi più di ieri. Abbiamo fatto una mostra a scambio, come di consueto ogni anno, ci siamo riuniti a titolo d'amicizia con un sacco di appassionati, dove abbiamo portato la storia dei trattori. Se guardiamo, abbiamo dall'inizio dei primi Fiat a tutta l'innovazione che c'è adesso, diciamo, ai giorni nostri. Abbiamo pure delle novità, abbiamo uno scuotitore per le olive, uno a pettino e uno a vibrazione. Poi abbiamo un'altra bella innovazione che è una macchina che è pota, attaccata a un trattore New Holland, che è del nostro Presidente, ha avuto il coraggio di affrontare una bella spesa, però di portare un'innovazione, perché visto che la manodopera in Campagna è sempre meno, questi lavori purtroppo della Campagna non li vuole fare più nessuno, però diciamo che all'entusiasmo di fare questo raduno, questa mostra è per stare uniti e insegnare pure ai bambini la storia da dove veniamo noi, i nostri padri, i nostri nonni, perché anche questa è storia.